Insieme differenziamo, la città pulita dipende da noi e dipende da te. Con questo slogan il Comune di Mondolfo dal 2016 ad oggi ha registrato un trend in aumento per quanto riguarda le percentuali di raccolta differenziata dove negli ultimi tre anni si attesta attorno all'80%. Un altro dato importante è che negli ultimi tre anni consecutivi, quindi 2020, 2021 e 2022, abbiamo mantenuto una percentuale pari all'80% ed è un dato significativo considerando che la media provinciale è del 73% e quella regionale del 72%. Inoltre un altro aspetto da sottolineare è il fatto che è cambiato il servizio e quindi sono cambiate anche le abitudini dei cittadini da gennaio del 2022 e nonostante il cambio di abitudini abbiamo mantenuto appunto percentuali alte. Oltre a questo si è riscontrata una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati e una diminuzione della quantità di rifiuti complessivi prodotta da ciascun cittadino, quindi dei dati importanti che ci fanno ben sperare per il futuro e ci teniamo a ringraziare le famiglie e le attività del nostro Comune che si sono adeguate rapidamente ai cambiamenti e in sinergia con il gestore del servizio che ringraziamo per il lavoro fin qui svolto continueremo a porre la massima attenzione affinché questi risultati vengano mantenuti e se possibile anche migliorati. Soddisfazione anche da parte dell'Ufficio Ambiente del Comune sui risultati raggiunti, questo a testimonianza delle scelte intraprese nel tempo come la raccolta porta a porta spinta a partita dallo scorso anno. Inoltre è stata riscontrata una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati e una diminuzione della quantità di rifiuti complessivi prodotta da ciascun cittadino. Abbiamo svolto in questo anno diverse campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per poter migliorare sempre di più il servizio e continueremo a svolgere sia sul territorio che all'interno delle scuole in modo tale da migliorare ancora di più la qualità della raccolta e del servizio stesso. Tutte le informazioni che si possono reperire sul servizio di raccolta differenziata si possono trovare sia sul sito raccolta differenziata del Comune di Mondolfo in modo tale che i cittadini possano essere sempre informati su quelle che sono le diverse attività e anche disponibile l'app Junker in modo tale che i cittadini in qualsiasi momento abbiano una qualche perplessità possono accedere a quest'app per essere sempre aggiornati.